Il CREA è responsabile del progetto Life Beef Carbon in Italia e ha il compito di valutare l'impronta di carbonio in 100 aziende dimostrative ed in 20 aziende innovative situate nelle regioni del Piemonte e del Veneto. Le tipologie di allevamento adottate sono linea vacca vitello ciclo aperto, linea vacca vitello ciclo chiuso, ingrasso specializzato e questo lavoro viene fatto in collaborazione con l'associazione produttori carne del Piemonte e Unicarve del Veneto. Le principali tecniche di mitigazione che sono state adottate dagli allevatori sono di due tipi. Un primo gruppo è rappresentato da tecniche di mitigazione che tendono a ridurre l'emissione di carbonio e la seconda invece è quella di mantenere ed aumentare la quantità di carbonio stoccato nel terreno. Fra le tecniche prevalentemente adottate dagli allevatori sono le cosiddette tecniche win-win, cioè le tecniche che hanno degli effetti positivi sia ambientali che economici. mentre ci sono delle altre tecniche che comportano degli investimenti ma non hanno un riscontro economico, pertanto in questo caso sarebbe auspicabile un intervento pubblico.